salve ragazzi e bentornati nel mio canale oggi siamo qui con la undicesima puntata di outlast mi scuso per l'ambiente un po tetro un po buio ma con questo gioco ragazzi purtroppo dobbiamo giocare così non possiamo fare altrimenti perché se no non rende dobbiamo immedesimarci nel personaggio giustamente quindi ho soltanto questa lucina qui che mette un po di un po di ansia comunque riprendiamo ragazzi riprendi partita allora vediamo un po qua vi ricordo ragazzi che era tutto buio cerchiamo una via d'uscita batteria perfetto qua ringrazio mio fratello che mi ha detto nel video precedente che c'era una batteria a terra adesso procedi e qua non ci sono mai stato messa così no si quasi ho salito io comunque mi sa che tocca salire scale e toccava andare no detto si toccava andare di qua mi pare l'ultima volta perfetto eravamo arrivati qui adesso io ho paura a scendere però facciamolo questo si stava ammazzà non vedo assolutamente nulla ragazzi che cos'è ho sentito qualche rumori nostra è il ciccione cazzo ragazzi cazzo oddio sali sali in cefalitico mamma mia ragazzi il ciccione qua non ci voleva però è che qua spengo perchè non serve però ogni tanto questo bebbere lo star ciccione dove stiamo a camminare perchè sennò ragazzi qua fanno la fine del topo e ti pareva sta batteria comunque mi è asciuta proprio sulle palle vediamo qui se possiamo girare perfetto adesso qua dobbiamo riscendere sì no 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 così no cioè staviamo morire un'altra volta oddio mio non abbiamo batteria ragazzi non abbiamo batteria cambiamola va mamma mia ragazzi che brutto sto gioco non si vede una ceppa ma poi ma chi cazzo te l'ha fatto fa mi sa che tocca andare là dietro io la guardo intorno non si sa mai non si sa mai oddio il ciccione oddio 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 corri 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 mamma mia ragazzi che paura no metto un attimo in pausa ragazzi non me l'aspettavo non me l'aspettavo ragazzi riprendi partita ok qua si vede un po' di più ho paura che qua il ciccione viene raga ho paura che il ciccione si fa vede da dimmi che sei aperta tu vaffanculo porta di merda ok qua c'è un po' di luce ragazzi fortunatamente mmm bello fetish qua guardate le carcasse questo mi sa che è un'altra tana del ciccione ragazzi batteria che era sto tuono immenso non mi fate scherzi eh che me incazzo eh ok ok ragazzi ci siamo entrati ah qua è dove c'è stava il prete che ci aspettava andiamo un po' ma non mi potresti aspettare che andiamo in giro insieme noi no eh mortacci tu a me ti fanno sempre in giro da solo a me oh ragazzi io mi scuso davvero tanto per l'assenza di questi giorni ma purtroppo come dicevo prima non non sono stato molto bene ragazzi ho avuto un po' di problemi e non mi sentivo in vena di far video anche oggi non mi sento tanto in vena di far video ragazzi però non posso lasciarvi da soli che cazzo è quello tu non apri la porta eh oh no 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 che cazzo era oddio rega ma perché mi avevano tutti ammazzati a me se già oh oddio ma qua c'è stani maniaci regà preferivo sta fuori corciccione oh oddio mio c'è sta una cassetta delle lettere per infilarmici dentro qua cazzo là c'è un'altra porta oddio mio dove cazzo sia oddio qua porta aperta fammi andare qua apri chiudi che c'è qui assolutamente nulla aperto una batteria di merda però eh io qua chiudo la porta la batteria sta finendo di nuovo ragazzi che è sta musichetta oddio mio che cazzo c'è qui apri 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 entra dentro subito immediatamente non te muove no non c'è niente che cazzo era quel rumore allora prendiamo la batteria io qua non so assolutamente dove dobbiamo andare ok scale qua c'è qualcosa documento saliamo su ma vaffanculo le vie più facili sono tutte rotte oh oddio mio ragazzi che ansia dove sto qua dove sto qui che cos'è perché ci stanno l'armadietti qui vuol dire che c'è qualcuno che mi va ammazzar qua che cazzo è che parla apri apri vado a vannar bagno mi scappa la cacca questa è chiusa scommetto vaffanculo siamo in un vicolo cieco ragazzi non so più dove andare oh tu rimani là eh ok dove siamo qui non lo so ma possiamo saltare mamma mia pure questo pure senza tutta è una lince per come sarta apriamo apriamo ok qua è tutto buio si ma tu sei stronzo mi fai fare la strada che hai fatto tu vieni da me io ho paura a me e a te non ti ammazzano non mi ammazzano manca a me ok ragazzi non so dove siamo qui ok oh non mi chiude sta porta ma e sbatte lui sbatte una chiave tre fu no vabbè che coglioni però ste chiavi oh qua che c'è mamma mia che brutto posto ragazzi questo è proprio brutto dove siamo qui mamma mia ma che c'è sta neri di satanici qua oh cazzo io chiudo non si sa mai ragazzi perché qua ogni volta che fai qualcosa viene qualcuno allora ah un fusibile si già ho saltato perfetto qualche rito strano qui in atto ragazzi qua il prete parla di purificazione ma io qua vedo tutto tranne che purificazioni ragazzi apriamo la porta fuoco inditor che cazzo ho sbagliato ok qua ragazzi sembra tranquillo quindi posso pure correre no non è più tranquillo oddio ma perché guarda quanto sei brutto figlio mio no ok se n'è andato e noi dovevo passate qua giustamente non mi pare proprio giusto a me mi pare proprio giusto vaffanculo ma chi cazzo ha creato sto gioco de merda no vaffanculo un'altra volta dobbiamo mettere un attimo qua dentro perché ho la batteria scarica ok ragazzi abbiamo altri tre minutini abbondanti ecco che è tornato indietro cosa ne sta andando però carichiamo la batteria che ce ne abbiamo sei ok adesso cinque però tu non mi puoi che carcazzo così ho vaffanculo è chiuso aspettiamo che ripassa ma che tanto lo so che torna torna o non torna non sento niente eccolo lì giù io ero da qua apri apri oddio mio e tu tu che cazzo vuoi qua oddio questo me sta andse qui perché fai così oh io sono amico tuo non rompe il cazzo vaffanculo oddio minucero davanti corri 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 salta fai quello che vuoi ma corri che c'è qui porta chiudi 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 non so ma non manco guarderò che c'è dentro la stanza ragazzi mamma che coglioni questi oh non mi lasciano un pace un attimo oddio questo spero magari si sveglia qua si si sbatti tanto non aprirai mai la porta sbatti quanto vuoi proprio si vai vai sbatti sbatti mamma mia ragazzi abbiamo tutte e tre i fusibili se non sbaglio ragazzi adesso possiamo aprire qui se n'è andato ma comunque ragazzi noi non ci facciamo spaventare vero da uno con una mazza di legno non ci facciamo no spaventare vale vero e qua non so cosa c'è forse un posto per ripararci io mi sono scordato come ci si torna indietro ma sa di qua si si era di qua era di qua perfetto ragazzi siamo riusciti a trovare i defusibili vai infila infila uno dirò l'altro vai adesso apriamo vai vai dai prendi sta chiave di merda ma che... ma vaffanculo oddio che cazzo è ma tu sei qui bastardo rotto in fregna corri cazzo corri corri mortacci tu e di chi non te lo dice quattro volte con le mani arzate oh quattro mamma mia vabbè ragazzi io qua devo interrompere perché il tempo a noi a disposizione è giunto al termine quindi vi saluto per la prossima puntata ragazzi spero che questa questa partita vi è piaciuta iscrivetevi al mio canale ragazzi ho visto che comunque il video di Final Fantasy è andato molto bene però soltanto non funziona più non so perché ma la beta non va più ragazzi detto questo pollice in su ricordatevelo sempre iscrivetevi e iscrivetevi anche alla mia pagina di facebook e alla prossima ragazzi bella a tutti